Porteremo in scena Contenti con una Pasqua, che è una commedia dialettale che si svolge negli anni 50 in una famiglia tranquilla, in cui non succede mai niente, in cui il tran tran quotidiano proprio... però piove tutta un tratto, una situazione straordinaria. La figlia si innamora niente poco di meno che di un uomo sposato, 1950, ed ha qui una serie di situazioni paradossali perché la figlia è arrabbiata, perché è giovane e comunque ha già altre idee, la madre lo è di più, lo zio prete potete immaginarvi quale sarà la sua reazione e così via via i vicini di casa, tutti quanti partecipano di questo lutto familiare e della figlia incinta, cosa dirà tutta la città di Senigallia, ma... 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 Laura, ma... Basta! Basta, detto anche troppo, vi invitiamo a venire a ridere con noi.